Il perdono è l'eterno rifugio. Nomi, nomi, come è triste la terra di sera, come sono misteriose le brume sulle paludi. Chi ha vagato in queste brume, che ha molto sofferto prima della morte, che ha volato su questa terra portando su di sé un peso troppo gravoso, lo sa. Lo sa che è stanco, ed egli, senza rimpianto, abbandona le brume della terra, le sue paludi e i suoi fiumi. A cuore leggero si consegna nelle mani della morte, sapendo che essa soltanto lo placherà. Anche i magici cavalli neri erano spussati e portavano i loro cavalieri lentamente, e la notte inaluttabile cominciò a raggiungerli. Sentendola alle proprie spalle, si cittì anche l'instancabile beghemot, che, vignato alla sella con le unghie, volava silenzuoso e serio con la coda dispiegata. La notte aveva cominciato a coprire di un nero scialle i boschi e i prati. La notte aveva acceso piccole luci messe laggiù in basso, luci estranee, ormai indifferenti e inutili per Margherita e il maestro. La notte aveva superato la cavalcata, si disseminava su di essa dal alto, e lanciava ora qua, ora là, nel cielo, rattristato le bianche macchioline delle stelle. La notte s'infittiva, volava accanto, afferrava i cavalieri al galoppo paimantelli e, strappatili dalle loro spalle, smascherava gli inganni. E quando Margherita, avvolta dal vento fresco, aprì gli occhi, vide, come andava mutando l'aspetto di tutti quelli che volavano verso la loro meta. Quando incontro a loro dall'estremità del bosco cominciò a uscire, pur pura e piena, la luna, tutti gli inganni scomparvero, cadde nella palude, affondò tra le brume l'instabile veste stragonesca. Difficilmente adesso avrebbero riconosciuto Corovio Fagotto, sedicente traduttore del misterioso consulente che non aveva bisogno di traduzione alcuna, in colui che volava accanto a Voland, a destra dell'amica del maestro. In luogo di chi, in una lacera veste da circo, aveva lasciato i monti dei passeri sotto il nome di Corovio Fagotto, adesso galoppava, facendo tintinnare sommessamente la catena d'oro della briglia, un cavaliere di colore violetto scuro, con un volto copissimo, che non sorrideva mai. Teneva il mento appoggiato sul petto, non guardava la luna, non si interessava della terra, pensava a qualcosa di suo, mentre volava accanto a Voland. «Perché è tanto cambiato?» chiese sommessa Margherita a Voland, accompagnata dal sibilo del vento. «Questo cavaliere un giorno scherzò in modo poco felice», rispose Voland, voltando verso Margherita il volto dal occhio placidamente luminoso. «E la freddura che aveva detto, mentre discorreva di luce e di tenebre, non era molto buona. Da allora il cavaliere dovette scherzare un po' più a lungo di quanto avesse previsto. Ma oggi è la notte che si tirano le somme. Il cavaliere ha saldato e chiuso il suo conto». La notte aveva strappato anche la coda fiumosa di Begemoth, lo aveva spellato e aveva gettato il pelo a ciocche nelle paludi. Quello che era stato il gatto che svagava il principe della tenebre, adesso era un giovane smilzo, un demone paggio, il miglior buffone che mai sia esistito sulla terra. Anche lui adesso si è razzettito e volava silenziosamente, col suo giovane volto offerto alla luce che si spandeva dalla luna. All'estremo lato volava a Zazello, facendo rilucere l'acciaio dell'armatura. La luna aveva mutato anche il suo volto. Era scomparsa senza lasciar traccia alla zanna, assurda e orribile, e l'ucoma si era rivelato falso. Entrambi gli occhi di a Zazello erano uguali, vuoti e neri, e il viso era bianco e freddo. Adesso a Zazello volava col suo sembiante reale, come un demone del arido deserto, come un demone assassino. Margherita non poteva vedere se stessa, ma vedeva bene com' era mutato il maestro. I suoi capelli biancheggiavano ora alla luce della luna e si erano raccolti dietro in una treccia che volava al vento. Quando il vento soffiò via il mantello dai piedi del maestro, Margherita vide sui suoi stivaloni le piccole stelle, che ora si smorzavano, ora si accendevano degli speroni. Simile a un demone giovinetto, il maestro volava senza staccare gli occhi dalla luna, ma le sorrideva, come se la conoscesse bene e la amasse. E per l'abitudine acquisita nella stanza numero 118, borbottava qualcosa tra sé. E finalmente Voland volava anche elli col suo vero sembiante. Margherita non avrebbe potuto dire di che cosa erano fatte le brille del suo cavallo, e pensava che forse erano catenelle di raggi lunari. E il cavallo era soltanto un blocco di tenebra, e la criniera di questo cavallo una nube, e gli speroni del cavaliere bianche macchie di stelle. Così volarono in silenzio a lungo, finché anche il paesaggio in basso non cominciò a mutare. I tristi boschi affondarono nel buio terrestre e trassero con sé le opache lame dei fiumi. In basso comparvero e presero a lucicare dei massi, e tra essi ne raggiavano abissi, nei quali non penetrava la luce della luna. Voland arrestò il suo cavallo sulla piatta, squalida cima pietrosa, e allora i cavalieri si mossero al passo, ascoltando i cavalli premere col loro ferie le selci e i sassi. La luna inondava il pianoro di luce verde e chiara, e Margherita presto scorse in quel luogo deserto una scranna, e su di essa la bianca figura di un uomo seduto. Forse quel uomo era sordo, o troppo immerso nelle riflessioni. Non sentiva come fremeva la terra pietrosa sotto il peso dei cavalli, e i cavalieri, senza disturbarlo, li si avvicinarono. La luna aiutava bene Margherita e illuminava meglio del miglior lampione elettrico, e Margherita vide che l'uomo seduto, i cui occhi sembravano ciechi, si stropicciava con forza le mani e fissava quei suoi occhi ottenebrati nel disco lunare. Adesso Margherita vedeva che accanto alle pesante scranne di pietra, su cui la luna faceva brillare scintille, giaceva uno scuro enorme cane dalle orecchie aguzze, e come il suo padrone guardava inquieto la luna. Ai piedi dell'uomo c'erano cocce di una brocca spezzata, e si stendeva, senza mai prosciugarsi, una pozza di color rosso-nero. I cavalieri fermarono i loro cavalli. Il suo romanzo è stato letto, presa a dire volant, voltandosi verso il maestro, ed è stato detto soltanto che purtroppo non è finito. Ecco, ho voluto mostrarle il suo eroe. Sono quasi due millenni che sta qui, su questo pianoro, e dorme. Ma quando viene la luna piena, come vede, lo strazza l'insonnia. E si tormenta non solo lui, ma anche il suo guardiano fedele, il cane. Se è vero che la viltà è il vizio più grave, il cane forse non ne porta la colpa. L'unica cosa che questo animale coraggioso temesse era la tempesta. Ma chi ama deve dividere la sorte di colui che egli ama. «Che cosa dice?» chiese Margherita. E il suo volto, completamente tranquillo, si appannò d'un velo di compassione. «Dice», rispose volant, «una sola cosa. Dice che anche quando c'è la luna, per lui non c'è pace. E che è brutto il suo mestiere. Così dice sempre quando non dorme. E quando dorme, vede una sola cosa. Una strada illuminata dalla luna. E vuole percorrerla. E parlare con l'arrestato a nostri. Perché, come ella afferma, non è finito di dire qualcosa allora, tanto tempo fa, il giorno quattordici del mese primaverile di Nizan. Ma in me, per questa strada, non le riesce di incamminarsi e da lui non viene nessuno. Allora, che fare? Le tocca parlare con se stessa. Ma è pure necessario un po' di varietà. E il suo discorso sulla luna, e le sovente aggiunge che più di ogni altra cosa al mondo odia la sua immortalità e la gloria inaudita. Afferma che muterebbe volentieri la sua sorte col vagabondo straccione Levi-Matteo. «Dodice mille lune per una sola luna d'un tempo. Non è molto?» chiese Margherita. «Si ripete la storia di Frida?» disse Voland. «Ma Margherita, quei non devi inquietarsi. Tutto sarà giusto. Su questo è costruito il mondo». «Liberatelo!» gridò a un tratto con voce penetrante Margherita, così come aveva gridato una volta quando era una strega. E questo grido fece cadere una pietra sulle montagne ed essa volò per le balze nel precipizzo, riempiendo i monzi di fragore. Ma Margherita non avrebbe potuto dire se quello fosse il fragore di un masso caduto o il fragore di una risata satanica. Comunque Voland ribeva, sogguardando Margherita, e diceva «Non bisogna gridare sulle montagne, tanto lui è abituato alle valanghe, e questo non lo allarma». «Lei non deve intercedere per lui, Margherita, perché per lui ha già intercesso la persona con la quale elle brama tanto di parlare». Qui Voland si voltò di nuovo verso il maestro e disse «Ebbene, ora lei può finire il suo romanzo con una sola frase». Il maestro sembrava che già aspettasse queste parole mentre stava immobile e guardava il procuratore seduto. Egli atteggiò le mani a portavoce e gridò in modo che l'eco rimbalzò per i monti deserti e brulli. «Sei libero! Sei libero! Egli ti aspetta!» «Le montagne trasformarono la voce del maestro in un tono e questo tono le distrusse. Le maledette mura rocciose caddero. Restò soltanto il pianoro con la scranna di pietra. Se non era abisso nel quale erano finite le mura si accese una città immensa con gli idoli lucenti che regnavano su essa al di sopra di un giardino rigoliosamente cresciuto nel corso di molte migliaie di lune. Fino all'imitare di questo giardino si protese la strada illuminata dalla luna tanto attesa dal procuratore e per primo lungo di essa si aggettò a correre il cane dalle orecchie aguzze. L'uomo col mantello bianco foderato di un rosso sanguigno si alzò dalla scranna e gridò qualcosa con voce rauca esausta. Non si poteva capire se stesse piangendo o ridendo e che cosa gridasse. Si vedeva soltanto che dietro al suo fedele guardiano lungo la strada illuminata dalla luna correva a precipizzo anche lui. «Devo andare là seguirlo?» chiese inquieto il maestro toccando le briglia. «No», rispose Voland «perché seguire le orme di ciò che ormai è finito?» «Allora là?» chiese il maestro si voltò e indico con la mano là dove alle spalle si era delineata la città da poco abbandonata con le torri di marzapane dei monasteri e col sole in mille pezzi nei vetri. «Neppure!» rispose Voland e la sua voce si spessì e colò sopra le rocce. «Romantico maestro!» «Colui che tanto brama di vedere l'eroe da lei inventato or ora messo in libertà da lei stesso ha letto il suo romanzo cui Voland si volse verso Margherita «Margherita Nicolaevna non si può non credere che lei abbia cercato di inventare il futuro migliore per il maestro ma veramente ciò che io vi propongo e ciò che Jesho ha chiesto per voi è ancora migliore. Lasciateli soli loro due disse Voland piegandosi dalla sua sella verso la sella del maestro e facendo un cenno verso il procuratore che si era allontanato «Non disturbiamoli e forse su qualcosa finiranno per mettersi d'accordo». A questo punto Voland fece un gesto con la mano in direzione di Jerusalem e quella si spense. E anche là Voland indicò ciò che avevano lasciato alle spalle che farà mai in quel interrato cui si smorzò il sole e il sole frantumato nei vetri perché proseguì Voland convincente e dolce. O tre volte romantico maestro possibile che lei non voglia di giorno passeggiare con la sua compagna sotto i ciliegi che cominciano a fiorire e di sera ascoltare la musica di Schubert possibile che non provi piacere a scrivere alla luce delle candele con una penna d'oca possibile che lei non voglia come Faust starse nessuna storta nella speranza che le riesca di modellare un nuovo homunculus là 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 vi aspetto una casa è un vecchio servo le candele sono già accese ma presto si spegneranno perché subito vi verrà incontro l'alba per questa strada maestro per questa strada addio per me è ora addio con un sol grido risposera a volant margherita e il maestro allora il naro volant senza badare a strada alcuna si gettò nel precipizzo e dietro di lui tumultando si slanciò il suo seguito intorno non c'erano più né rocce né il pianoro né la strada illuminata dalla luna nei rushalai erano scomparsi anche i neri cavalli il maestro e margherita videro l'alba promessa e si cominciò subito immediatamente dopo la luna di mezzanotte il maestro camminava con la sua compagna nello splendore dei primi raggi mattutini attraverso un muschioso ponticello di pietra lo attraversarono il ruscello restò alle spalle dei fedeli amanti ed essi senti la tua casa eterna che ti è stata data per ricompensa già vedo la trifora e la vite che si attorge e salse fino al tetto ecco la tua casa la tua casa eterna so so che alla sera ti verranno a trovare coloro che tu ami che ti interessano e che non ti inquieteranno suoneranno per te canteranno per te vedrai che luce ci sarà nella camera quando saranno accese le candele ti addormenterai col tuo barretto consunto ed eterno ti addormenterai col sorriso sulle labbra e il sonno ti rinvigorirà e sagge saranno i tuoi pensieri e mandarmi via ormai non potrai e il tuo sonno lo proteggerò io così parlava Margherita seguendo il maestro verso la loro casa eterna e il maestro parve che le parole di Margherita fluissero come fluiva e bisbigliava il ruscello lasciato alle spalle e la memoria del maestro l'inquietta e martoriata memoria del maestro cominciò a spegnersi qualcuno lo lasciava libero come poco prima egli aveva lasciato libero l'eroe da lui creato questo eroe era scomparso era scomparso irrevocabilmente perdonato nella notte tra il sabato e la domenica il figlio del re astrologo il crudele quinto procuratore delle giudea il cavaliere Ponsio Pilato il avevo il sole